che bella gente il doc qua presente caffettino? Gio? Gio Rosso Nero? Gio Rosso Nero Benzinero? Cosa è successo? Maldini? No! Ha dato via? Maldini? Sigarette versione Roma Gio? Non eravate voi milanisi che criticavate il mercato? Adesso fatti tutti dispiaciuti? Via Ibra? Via Maldini? Via Massara? Chi è quell'altro che se ne è andato? Si prospetta un fallimento! Altri vent'anni senza vincere un cazzo! Se vuoi ti do la ditta dove prendi i piatti per spaccarli perché mi sa che dal prossimo anno ne devi scassare di piatti! Comunque raga mi raccomando stasera il live dal Gio Rosso Nero che lo perculiamo di brutto e un'altra cosa iscrivetevi, accendete la campanellina perché per mezzogiorno barra 3 in quel lasso di tempo uscirà la canzone Contra Allegri un salone dal doc! Iscrivetevi!